buongiorno buongiorno al dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscolo oggi ragazzi rispondo ad un signore che mi parla di tristezza tristezza per suo figlio che non vuole essere aiutato che le ha provate tutte ma nulla 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 cosa si può fare perché questa tristezza che dura già da qualche mese perché non sfoci in depressione cronica magari possa essere eliminata dal metodo dcs del dottor claudio saracino ecco la domanda che mi fa perché le ha provate tutte senza nessunissimo risultato bene io gli ho risposto che se vuole può scaricarsi un audio mp3 dcs dal titolo no alla tristezza no alla depressione che è molto potente naturale senza nessun effetto secondario senza effetti indesiderati senza nessun tipo di mani manipolazione eccetera eccetera che può veramente aiutare suo figlio ad eliminare questa tristezza che d'altronde non è neanche colpa del figlio perché la televisione la tv i social e chi più ne ha più ne metta seminano dalla mattina alla sera ipnotizzano dalla mattina alla sera nella mente nel corpo nella vita invisibile soltanto immagini sensazioni emozioni pensieri parole negative tristi come se quasi quasi tutto il mondo fosse in guerra tutto il mondo fosse offre dicono in francia rogo tutto il mondo fosse senza mangiare tutto il mondo fosse triste tutto il mondo stesse con i pedofili con gli assassini e compagni e bere il che non è assolutamente vero ma siccome il tuo subcosciente il tuo pilota automatico questa mente potente profonda che non sai se non sai o non ti hanno insegnato come funziona purtroppo ti guiderà così a random dove coio coio si dice in inghilterra bene a tuo praticamente starai sempre male sarai sempre triste perché il tuo subconscio funziona come siri dell'iphone oppure come il genio della lampada di aladino ogni tuo desiderio è un ordine non giudica non distingue il vero dal falso non entra nel merito per cui non è come la coscienza la logica il 12 per cento della nostra mente che critica vero non vero giusto non giusto esatto non esatto ma e segue alla lettera gli ordini che ti dai consciamento inconsciamente quindi anche se con la volontà dici voglio essere felice ma inconsciamente il tuo subconscio il tuo hard disk il tuo pilota automatico girano il disco le immagini della tristezza della della carestia delle cose più brutte di questa terra tu purtroppo sarai sempre triste che cosa bisogna fare entrare a livello naturale anche da soli nel tuo pilota automatico ed eliminare quelle immagini prenderle e bruciarle farle sparire come fumo nell'aria e questo è possibile solo con l'ipnosi dcs vera professionale la vera ipnosi non plus ultra che non ha nulla a che vedere con l'ipnosi conformista e commerciale pur ottima quest'ultima né con l'ipnosi fuffa con l'ipnosi paura l'ipnosi da spettacolo l'ipnosi da film ripeto io le ho provate tutte e nel 2008 la mia coscienza si svegliata quando salvato mio padre da un ictus fulminante che lo ha paralizzato per tutta la parte destra del suo corpo i medici gli specialisti della salute a cui l'avevo portato mi hanno detto che non c'era nulla da fare tranne d'alti dell'anticoagulante e mio padre era destinato a stare per anche 10 20 anni come un vegetale una larva nel letto e infatti da un anno e mezzo quasi due mio padre si era ormai adagiata nel letto con piaghi di decupito in tutto il corpo triste depresso cronico non parlava non ascoltava non partecipava non sentiva al che io mi sono messo davanti ai miei computer in ufficio in uno dei miei uffici e ho scritto un'email in tutte le lingue in tutto il mondo anche a medici ipnotisti molto rinomati conosciuti tedeschi russi americani canadesi giapponesi inglesi italiani francesi e compagnia bella e tutti nel 2008 rispondevano all'unisono non c'è nulla da fare non c'è nessun caso salvato dalla con l'ipnosi di ictus di un ischemia cerebrale di un infarto cerebrale come era stato mio padre e guarda caso anche mio nonno il padre di mio padre aveva avuto lo stesso problema non arrendendomi mentre stavo per gettare la spugna vedo l'orizzonte la dottoressa lina bruni di los angeles baby hills che mi scrive sì qui a los angeles aiuti a molti casi di paralisi ictus autismo epilessia parkinson cancro alzheimer casi rari e lì siccome avevo letto più duemila libri anche di personaggi molto famosi nel mondo dell'ipnosi medici e non medici sono rimasto esterrefatto esterrefatto perché se rifletti nei libri che leggi si parla ma non si va mai nello specifico o meglio diciamo l'ipnosi è un'arte una scienza tutti sanno dipingere ma non tutti sono artisti per cui ho salvato mio padre in 30 minuti online su skype da più di undicimila chilometri di distanza con la dottoressa lina brunino mio padre fu salvato io sgranai gli occhi così non ci credevo fammi tutte le domande del caso se vuoi eliminare la tristezza di chi vuole e chi non vuole puoi farlo visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cesser dottore claudio saracino e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita vista la mia fan page su facebook ipnosi ipnosi del dottore claudio saracino e seguimi anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cesser dottor claudio saracino e credi in te stesso in te stesso ciao ciao